Tutti amici, aspettate, cioè tutti mi cercano di Femaf, sono sempre Femaf, oggi giocheremo di nuovo a scacchi Ho appena disputato una partita contro Antochic e praticamente gli ho inchiappiettato la regina Lui mi ha fatto, per favore Femaf, per favore mi fai rifare la mossa E gli ho detto, va bene dai va bene, e poi ha vinto lui Va bene dai, andiamo avanti Ok, oggi giochiamo contro Zikbik Che, insomma, insomma, insomma Facciamo così, facciamo così Vediamo che cosa ha in serbo per noi Possiamo... Sì, mossa di sviluppo normale, andiamo avanti così Insomma, insomma, non ci sta attaccando niente, per ora Andiamo avanti Come... come se avessimo un... Un riccio dentro il buco del culetto Allora Avanti Zikbik Fammi vedere di che pasta sei fatto Nanananana Si sta spaventando, eh? Si sta spaventando Zikbik Manna Ehm... Sta cosa è figa Perché posso... no, scherzavo Ok, no, no, no Sto facendo, metto qua il cavallo Però lui poi va così E non manda in fumo i miei piani Per cui posso sviluppare il mio cavallo Poi sviluppo anche quest'alfiere in questo modo Tipo qua lo metto Sì, sì, sì C'è una possibilità di giocare, insomma, in modo corretto Allora Signor Zikbik Zik, Zikbik Come... come la mettiamo? Beh, 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 beh Allora Mamma mia Mamma mia, mamma mia È un po' lento questo Zikbik Zikbik Ehm... proviamo la... la solita trappola Che facciamo? Proviamola La proviamola E va bene Proviamo... proviamo la solita trappola, allora Cavallo qua Ehm... mo vediamo che fa Mo vediamo che fa È tutto pronto per questa super forchetta incredibile Ricordiamo che questa forchetta è coperta dal copyright del nostro alfiere Ehm... la posso fare? Beh, sì La posso fare Sì Tutto a posto Tutto a posto Ci siamo fatti una torre proprio free E niente E niente Mi sa che ci perdiamo il cavallo, però Perché dopo che la mangio Lui fa così E me lo incastra male Me lo incastra troppo male E vabbè E vabbè E vabbè Allora Allora Però Se lui fa così Vabbè Ehm... non ci siamo posti questo problema A noi va bene così Ci piace questa trappola Ci piace Perché tipo funziona il 70% delle volte Va bene, dai Va bene Ehm... comunque arrocchiamo pagnoni Perché la prudenza non è mai troppa In questo gioco degli scacchi Ehm... Mi hanno detto anche che Se c'ho tipo Più materiale E' meglio se lo scambio Perché così, capito E in proporzione poi ne ho ancora di più Mo c'è rimasto male Che ha perso la regina E... Mo capito Sta piangendo Zigpick Sta piangendo Pugagnone Ah... Attenzione Non si dà per vinto Zigpicks Zigpick Allora Noi facciamo così Facciamo così Non mi va di fare così Ehm... Potrei fare così Sì Credo che è quello che farò Beh è proprio un attacco disperato Questo qua Ma l'alfiera se ne deve andare Dove se ne va? Qua Per forza Oppure qua di nuovo come gli scemi Ma glielo mangio Ehm... Oppure se ne va Indietro proprio Cioè capito E' stata una mossa proprio inutile Sei proprio inutile Zigpick Tua madre quando ha partorito Ha detto Madonna che essere inutile Mamma mia Zigpick Lo chiamerò Zigpick Che in O stregondese Significa Inutile Scusami Zigpick Lo faccio solo per il canale E per la fama Non... Non ce l'ho con te Avanti Zigpick Avanti Beh Che c'è ti arrendi? Guarda che c'è un pulsantino con la bandiera E' questo qui Se lo premi Ti permette di arrenderti Perché non lo premi? Su Forza Hai paura? Sappi che stai per finire su YouTube Zigpick Stupido essere inutile Allora 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 Mo sai che faccio? Mo sai che faccio? Una cosa troppo bella Ehm Metto il cavallo qua Tanto per cominciare Poi faccio così E se tutto va bene Metto l'alfiere qua E c'ha la torre intrappolata Mamma mia Mamma mia Metto il cavallo qua Perché comunque è una buona posizione per il cavallo E' una buona posizione E anche se me lo può mandare indietro con questo pedone Però io poi Aspetta Che succede se lui Mi mangia col pedone? Cioè va avanti col pedone E io il cavallo lo metto Qua Viene mangiato dal cavallo No No niente Devo annullare la mia cosa col cavallo Se voglio intrappolare la torre Devo farlo in un altro modo Per cui Vabbè sviluppiamoci normali Faccio così No Così Ah Mo gli sto minacciando questo alfiere Mo me lo mangio Me lo mangio fortissimo Mo vediamo che succede Se mi mangia lui Non posso più arroccare però E il chi sarebbe una cosa brutta Sarebbe una cosa veramente brutta Ehm Allora Vi faccio così Lui mangia E basta No no Allora senti Li mangio sto alfiere Facciamola finita Facciamola finita proprio Mamma mia Mamma mia Va bene Abbandonato Zikbik E' stato un video Piuttosto Insomma Veloce Ci vediamo nel prossimo Ciao a tutti amici del canale Ciao